Questo video illustra la prima volta che ci siamo alzati sul fiume per riprendere la chiatta su cui ci trovavamo. La prima cosa da considerare è che, in caso di problemi, il ritorno automatico non è più un'opzione percorribile. DJI si limita a scoraggiare il decollo da una barca o da un veicolo in movimento. Seconda cosa molto importante è disattivare i sensori. Perché le sovrastrutture dell'imbarcazione, intercettate dai sensori in fase di atterraggio, lo respingono impedendo di arrivare a bordo. In alternativa, il forse preferibilmente, si può passare dal volo normale allo sport. Comunque, una volta provveduto a fissare queste impostazioni, aiuta molto che l'imbarcazione tenga rotta e velocità ogni giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.